Furti nella notte ad Agropoli, presi di mira un'edicola, un negozio indiano e un bar del centro, portate via soldi contanti, quel corologio o un videogiochi. Il bottino ammonta circa 500 euro ad entrare in azione poco dopo l'1.40, tre soggetti a volto scoperto che con l'aiuto di un piede di porco si sono introdotti prima nel bar tutti i frutti, quindi nell'edicola da Gerardo e dopo nell'Indian Shop. Alcune telecamere di videosorveglianza di alcuni privati hanno ripreso i movimenti dei malviventi e le immagini sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Presutti, i quali sono intervenuti sul posto all'incirca alle 6 di questa mattina perché chiamati dalla persona che effettua la consegna dei giornali. I commercianti sono sul piede di guerra e chiedono maggiore sicurezza in città, non ce la fanno più a sentirsi minacciati in casa propria. Hanno paura, inoltre chiedono di chiarire se le telecamere installate nel centro del comune sono attive in quanto ad essere prese in esame dai militari sono state telecamere di privati. Solo pochi giorni fa il titolare di un bar sito nel porto turistico fu riempito di botte e mandato in ospedale da alcuni rom per essersi rifiutato di servigli da bere. Pare che in questo caso ad agire siano stati tre rumeni.